Egregio, signor Brian Boyd, ormai sarà stato dettagliatamente informato della prematura morte di suo figlio. Tuttavia ci sono dei particolari personali che intendo... Siamo vivamente addolorati. Nessuna mia parola. Era un ottimo soldato. Riguardo le circostanze... Rende questa perdita tra me. L'ufficiale comandante di Robert... Ha reso un servizio eroico al suo paese. Era un valoroso città. Un amico devoto. Grazie di Dio e l'aiuto di suo figlio sono in grado. Quelli di noi che... Accetti la prego, le mie più sentite condiglianze... Lascerà nel nostro ricordo. Il più profondo cordoglio. Colonnello, c'è una cosa che dovrebbe sapere. Sì. Questi due uomini sono morti in Normandia. Questo ha Omar Habich. Sean Ryan. Questo ha Jutta. Peter Ryan. Questo è stato ucciso la settimana scorsa in Nuova Guinea. Daniel Ryan. Erano fratelli, signore. Ho saputo che oggi la loro madre riceverà tutte e tre i telegrammi. Non è tutto. C'è un quarto fratello, il più giovane. È da qualche parte in Normandia. Se quel ragazzo è vivo, manderemo qualcuno a cercarlo e lo tireremo fuori di lì in maledizione. Un soldato della centesima ha perso tre dei suoi fratelli e ha diritto di tornarsene a casa. Non sarà facile trovare un particolare soldato in mezzo a questa guerra. Non sarà facile trovare un particolare soldato in mezzo a casa. Grazie a tutti.